Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i Suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i Suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù. «Né Lui ha peccato, né i Suoi genitori, ma è perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di Colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano «Non è Lui quello che stava seduto a chiedere l'emosina». Alcuni dicevano «È Lui». Altri dicevano «No, ma è uno che gli somiglia». Ed egli diceva «Sono io». Allora gli domandarono «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto «Va a Siloea e lavati». Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero «Dov'è costui?» Rispose «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista ed egli disse loro «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui da sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero «A l'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo e mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono «Se è nato tutto nei peccati e insegna a noi» e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse «Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose «E chi è, Signore, perché io credo in Lui?» Gli disse Gesù «Lo hai visto? È colui che parla con te». Ed egli disse «Credo, Signore». Facci bene, amici, e ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento con la liturgia festiva Rito Ambrosiano, quarta domenica di Quaresima. Il brano del Vangelo odierno ci presenta un racconto miracoloso, un segno che Gesù pone a favore di un uomo cieco dalla nascita. Il tema che intende presentare l'Evangelista Giovanni è quello della luce. Nel quarto capitolo la Samaritana ci ha parlato dell'acqua, nel Vangelo di domenica scorsa della verità, il tema della verità e della libertà. Poi nel capitolo terzo troviamo l'episodio, il dialogo tra Nicodemo, questo maestro della legge e Gesù che si verifica, si svolge nella notte e il Signore illustra a questo maestro in Israele che bisogna rinascere dall'alto non secondo la carne ma secondo lo spirito. Il tema odierno è quello della luce, la luce che illumina ogni uomo, la luce che viene nel mondo, in collegamento con il primo capitolo di questo quarto Vangelo. E quindi la luce che viene e che avvolge e che coinvolge, che vivifica, rende nuove tutte le cose. Possiamo immaginarci o porci dentro la situazione, tentando di porci dentro la situazione di questo uomo cieco della nascita, di metterci nei suoi panni, anche se è difficile immaginarcelo, come potesse reagire questo uomo di fronte all'opera, al segno proclamato e posto da Gesù Cristo. Di fatto si ritrova a vedere, non aveva mai visto, non aveva mai visto il volto dei suoi genitori, la tenenza che poteva comparire nel volto materno della madre, non poteva vedere attorno a sé le meraviglie della natura, della creazione del mondo, dell'universo, non poteva lavorare, avere dei soldi, una casa propria, una moglie, dei figli. Gli era impedito tutto questo a causa della sua cecità. Gesù lo guarisce e lo catapulta improvvisamente in un mondo nuovo, a lui sconosciuto. O conosciuto soltanto attraverso gli altri sensi. Aveva senz'altro ascoltato le voci, i suoni, i rumori, il silenzio e cadenzava la sua vita rispetto a quello che sentiva, non quello che vedeva. Per lui è sempre stato buio pesto, buio di una notte senza luna e senza le stelle. E a un certo punto si vede spalancato questa meraviglia che è la creazione e si rinnova la sua vita. Le relazioni cominciano a avere un significato nuovo per lui. Ecco, e poi troviamo anche questo uomo che, in ultimo, dopo aver dialogato ripetutamente con i farisei, i quali, non potendo ammettere il miracolo perché Gesù opera in giorno di sabato, e questo è un peccato grave, quindi non può essere né un profeta del Messia, non potendo accettare questo miracolo, tentano in qualche modo di porre dei dubbi circa l'esistenza stessa, circa il fatto, circa l'avvenimento. Prima intervino lui, poi la madre, il padre, poi ancora lui e poi non si rendono conto, non vogliono accettare che Gesù abbia potuto compiere questo segno prodigioso, guarire, dare, ridare la vista a un cieco nato così. E quindi si sentono illuminati, proprio perché si sentono illuminati non vedono, proprio perché leggono i segni, la storia, gli eventi, i fatti, attraverso una loro precomprensione, che pensano di essere della luce per questo, si ritrovano a non capire niente, a rifiutare tutto, a rifiutare la salvezza che Gesù veniva a portare a tutti quanti, nessuno escluso. Allora dicevo che bisogna mettersi nei panni di questo uomo e cercare di pensarci dentro una situazione di buio, di cecità e a un certo punto vedere tutto, osservare, contemplare, relazionarci in un modo diverso con gli altri, con la storia. Oltre a questo, questo uomo alla fine crede. Io credo in te, Signore. Egli si prostrò innanzi, si inginocchiò. Oltre alla luce fisica, reale, naturale, materiale, questo uomo ha fatto capolino anche la luce della fede, il che vuol dire porsi di fronte alle meraviglie del creato, cercando attraverso esse, attraverso le perfezioni del creato, giungere alla ammissione di un creatore, dalle realtà invisibili alle realtà invisibili. E poi le nuove relazioni con gli altri. Cioè questo uomo si vedeva proiettato dentro la vita, dentro la vita reale rinnovata, quella umana rinnovata, e dentro la vita di fede. Signore, io credo. Quindi a relazionarsi con gli altri, a guardare le cose con gli occhi di Gesù. Anche noi, sotto questo punto di vista, anche se vediamo benissimo, rischiamo di camminare nella vita da cecchi, da miopi, senza avere la possibilità di risalire dalla perfezione delle creature all'esistenza del suo creatore. Siamo tutti di fretta, non riusciamo più a gustare le bellezze della vita e la bellezza del creato. E anche noi molte volte il nostro modo di confrontarci e di rapportarci con gli altri è segnato, bacato, da precomprensioni, da invidie, da gelosie, da risentimenti dovuti a incidenti di percorso, a qualche disguido che abbiamo avuto nei nostri rapporti con gli altri. Ecco, il Signore oggi ci chiama a vedere e noi lo vogliamo pregare perché rinnovi la nostra vita, ci dia la luce, la sua luce che rinnova l'esistenza perché nella sua luce noi possiamo vedere la luce, cioè contemplare la bellezza della vita. Pacevine amici, a risentirci e alla prossima domenica. 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 a risentirci e alla prossima domenica.